Amici, i poveri puzzano, non ci credete? I poveri puzzano non perché non si lavano, non perché non hanno i panni puliti, non perché ci chiedono l'elemosina, puzzano perché invadendo il nostro mondo, quel mondo del mulino bianco dove un imbecille parla a una gallina, disturbano le nostre case perché sono tutti ladri, perché si fanno sfruttare dalla delinquenza italiana e diventano da sfruttati anche coloro che vengono accusati di rubare il lavoro agli italiani, lavoro che gli italiani non vorrebbero mai fare, non hanno più voluto fare in vita loro, i lavori più umili, nonostante ciò vengono accusati di essere i disturbatori dell'economia, quando in un altro articolo ho già dimostrato che costoro dichiarano tasse e producono un prodotto interno lordo per il 12% del pillo. Dicevo, la malavita li sfrutta e il nostro cervello e la nostra ormai moribonda coscienza crea un'incoerenza che regna sovrana dentro i nostri modi di pensare. Molti accusano queste persone che sono razziste, che sono nazionaliste e via dicendo. Io dico che il razzismo molta gente lo interpreta ancora come quelli vestiti di bianco, incappucciati di bianco con i fori degli occhi del KKK, del KKK, i razzisti per Andalomasia, quelli americani. Quelli sono i meno pericolosi, potete stare certi. Pericolosi sono quelli che ci fanno inculcare idee di indolleranza e di paura. e fanno sì e sono talmente convincenti che noi crediamo che sia la verità. A chi lo fa e a chi lo crede, vi dico la verità ormai acclarata, la nostra futura, forse io non la ricorderò perché passeranno anni e anni, sarà assolutamente una società multietnica. non pensate di poter salvaguardare in un mondo così piccolo, dove la comunicazione, i trasporti, i viaggi sono così celeri e il mondo è così ristretto, tale che notizie dall'altra parte del mondo sembrano che siano successe a mezzo metro da casa nostra. e per quelli proprio molto, molto testardi nel voler difendere la loro razza ariana, la loro integrità, mi riferisco specialmente in Italia a quelli della Lega, ma non solo a quelli, non voglio infierire facendovi scoprire una verità che è acclarata, che tutti quanti siamo africani, siamo tutti africani perché il ceppo della nostra genealogia, i nostri geni vengono tutti dall'Africa e quindi siamo noi stessi a turbare il nostro mulino bianco. Siamo un cittadino, tutto è basta. Ognuno vale puro, ognuno vale puro, ognuno vale puro, vale puro, siamo un parco, l'iniziamo una casa, siamo un cittadino e tutto è basta, ognuno vale puro, ognuno vale puro, ognuno vale puro, vale puro, vale puro, vale puro, vale puro, amici, se come dice detto la mamma dell'imbecille sempre incinta o dello stupido, la mamma della Lega è sempre incinta e fa parti minimo gemellari se non partorisce più figli. Tutto si vince da questo articolo che ho trovato su internet dove si arriva ad affermare che le politiche di accoglienza e di integrazione di cui sono, di cui la Ministro Echienge e la Presidente della Camera Laura Beldrini sono espressione imbutando loro una colpa morale per la tragedia di Lampedusa. adesso che uno sia abituato a sopportare qualsiasi cosa ormai in Italia non ci fa più paura nulla, l'Italia è la fantascienza della politica ma dopo che persone che hanno obbligato i propri alleati che non erano poi così obbligati come quel PDL a fare una legge così razzista, così omofoba, così anticattolica come la Bossi Fini che oggi sale sul pulpito per poter spiegarci che la colpa è di Tizio, Caio e Sembronio, questo onestamente non è proprio più accettabile. Siccome in politica è facile disconoscere ciò che si è detto, certamente la Lega e il PDL in questo frangente hanno tantissimi fatti che la storia recente li inchioda alle loro colpe in questo specifico settore. Analizzeremo quali sono le colpe, come l'impossibilità di qualsiasi peschereccio di salvare eventuali vite umane altrimenti sarebbero incolpati, andrebbero contro la legge che poi spiegheremo quale. Grazie.